Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nessun segno esplicito come un cuore o una didascalia, né un tag diretto, ma l'ultima storia di Chiara Capitta sembra voler introdurre la fidanzata al mondo. Nella foto si vede Chiara baciare una ragazza non proprio sulla guancia, ma leggermente più in alto. La giovane in questione rimane misteriosa. Il volto della ragazza è parzialmente nascosto dal telefono, mentre entrambe sono in un ascensore e lo scatto è stato fatto sfruttando il riflesso dello specchio, lasciando intuire ma senza svelare troppo. Tanto è bastato, però, per suscitare l'interesse dei quasi 60.000 follower di Chiara, figlia della celebre conduttrice, showgirl, cantante e ballerina, nonché professoressa di amici, Lorella Cuccarini. La curiosità sulla presunta fidanzata di Chiara Capitta è cresciuta notevolmente, anche se, come detto, non è stato confermato ufficialmente che si tratti della sua compagna. Chiara gioca nella squadra femminile della Roma da quando aveva 12 anni e lavora anche come social media manager della madre, con la quale ha un ottimo rapporto. Nel 2023, Chiara ha attirato l'attenzione del pubblico quando ha risposto a una domanda sui social riguardo al suo orientamento sessuale, dichiarando, non ho mai amato le etichette. Mi interessa una persona per com'è, indipendentemente dal genere. Potrei innamorarmi sia di un ragazzo che di una ragazza. Queste parole hanno generato grande discussione, lasciando Chiara sorpresa e restia a parlare ulteriormente dell'argomento. Lorella Cuccarini, pochi giorni dopo, ha commentato la questione dicendo, mi ha sorpreso che ci sia stato tanto clamore per una semplice affermazione. Le parole di Chiara erano chiare e naturali. Lei è adulta e libera di esprimersi come vuole. Se si fidanzasse con una donna? Non avremmo alcun problema, non esistono barriere nella nostra famiglia. E voi, cose ne pensate delle dichiarazioni di mamma Lorella? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.